Olanda-Inghilterra probabili formazioni. Stasera in scena la seconda semifinale di 2024 euro. Ieri sera la Spagna si è imposta sulla Francia per 2-1 grazie alle reti di Yamal e Dani Olmo. La vincente di Olanda-Inghilterra affronterà le furie rosse a Berlino. Continua. Leggi anche, 2024 euro, Yamal oscura Mbeppo e porta la Spagna in finale. Leggi anche, 2024 euro, il mesto addio degli azzurri sconfitti 2-0 dalla Svizzera. Olanda-Inghilterra probabili formazioni.Tutto pronto per la seconda semifinale di 2024 euro. Olanda e Inghilterra scenderanno in campo questa sera al Siganoliduna Park di Dortmund. Il match sarà arbitrato dal tedesco Bayer. Negli ultimi 5 precedenti tra le due squadre prevale l'Olanda con tre vittorie, una ai supplementari, un pareggio e una sconfitta. Le due squadre si sono incontrate l'ultima volta il 6 giugno 2019. Anche in quel caso si trattava di una semifinale ma per la UEFA Nations League. L'Olanda si impose per 3-1 ai supplementari con le reti di The League, promesse all'autorete di Walker. Queste le probabili formazioni del match. Olanda, 4-3-3, Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Eck, Schauten, Xavi Simons, Reinders, Berguin, Depay, Gakpo, Hall. Koeman.Inghilterra, 4-2-3-1, Pickford, Walker, Stones, Guay, Tripier, Maino, Rice, Saka, Bellingham, Foden, Kane, Hall. Suttgate.